BANDOLIERA BANDOLIERA, eccola qua Uccidere zombie con un colpo critico ha la possibilità di ricaricare alcune munizioni Aaaaaah A saperlo mettevo questa prima Andiamo allo Shine Avenue NEGOZIO OSK KABOOM COS'E SUCCESSO A QUELLO ZOMBI MA E' IL TIZIO ALVEARE MI SA PROPRIO DI SI ASPETTA SI, LARVA DI INSETTO che guarda caso mi serve madonna mia che colpo, triplo tizio muscoloso salta gambina tizio con le munizioni colpo al petto addio al braccetto addio anche al secondo fai tanto il gradasso ma appena ti salta il braccio pam ho dovuto fare un giro un po' strano ma finalmente siamo arrivati in negozio elimina i tecnici e addio al tecnico addio alla gambina e addio all'altra gambina parla con Konstantin arrivo subito Konstantin sto fucile non è male però non fa abbastanza danno ma in realtà quasi tutti quanti i fucili a pompa non fanno abbastanza danno eh eh chi se la ricorda ah perfetto grazie si ce l'ho fatta ah grazie ok 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 l'autofagia minchia in tutto il mondo addirittura forse dovevi ascoltare prima eh il transfert a Cadenza è completo tu mi spaventavi tu tu pappa dove è Cadenza ora Cadenza è locata a Sola dove tu dovresti essere dove dovrei dovremmo beh forse è anche colpa tua che sai magari chiedere prima cosa era successo e poi invia il file però vabbè ok è il momento di tornare al Sola brutta storia infatti si è annuvolato tutto matonda mia minchia che casino e lo vengo a cercare salva Grace una Grace da salvare arrivo piccoletta madonna mia ma che casino che c'è qui è una mia impressione gli zombie sono molto più resistenti non ho fatto le munizioni del fucile a pompa cavolo appena arriviamo da Grace devo ricaricarmi ma porca miseria ma che casino ma sta roba qui è Stranger Things vibes tutta la vita vabbè io mi muovo dopo ci pensiamo al quantitativo di zombie Grace tutto a posto ah è andata oh cavolo pensavo che era qui eeeh che sta facendo un attimo mi sono confuso e poi devo fare le munizioni chi è ormai guarda mi offendo se tu non vieni quindi ma porca puttana non è possibile quanta gente ci sia ho capito che è il momento di piena follia questo dove tutto ciò che c'è di negativo adesso sale a galla infatti i zombie sono stra resistenti anche durante la mia furia cioè io potrei adesso continuare a stare in furia per quanta gente c'è continuare a menare e ricaricarmi e infatti guarda anche chi è arrivato che ho appena notato che è immune agli attacchi sanguinanti ecco qua allora calmini tutti qua dov'è il coagulo sarai resistente a tutto quello che vuoi ma l'elettricità mi dispiace non sei invincibile però per sta stronzata ho speso un sacco di cos'è chiavi armadietto fantastico grande per fare sta cazzata ho speso un sacco di munizioni l'ho già finita basta un po' quanta gente no 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 ma tu stai scherzando quanta gente c'è adesso no la stronza la stronza mi ha annullato la mia furia certo sto momento qua è fantastico per farmarti le robe però cavolo sono tanto resistenti i nemici ora soldi materiali tutto quanto tranne il tizio delle api lui non c'è praticamente mai lui a queste feste è quello che non viene mai invitato ok ho fatto rifornimento di munizioni possiamo andare dobbiamo muoverci ora dove è possibile evitiamo tutto nemici tutto quanto anche se la vedo difficile dai la vedo tosta ora si ma non solo di te anche degli zombie merda devo muovermi non devo guardare chi ho dietro cosa c'ho dietro davanti è tutto chiuso ovvio dove era l'entrata di sta fogna di qua perfetto balzo levati fa vedere balzo in modalità furia sferra un potente attacco tagliente ma si dai un po' di nemici magari normali li uccido devo ricaricare subito la furia e guardalo lì il palco principale pieno di gente perché sei là sopra effettivamente porca puttana come faccio ad avvicinarmi tutta sta gente infuocata ok l'importante era togliere di mezzo questo qua ok che questo qua ci sputava addosso ed era più fastidio che altro questo qui grazie delle munizioni una volta che gli rompi il braccino sai che problema è merda sono in fiamme sono in fiamme aiuto mi spiace troppo tardi arrivo arrivo ma fanculo questa con le arma è la casimir perfetto qualcun altro ti pareva no tu no tu se puoi morire prima mi fai un piacere fugatore la madonna allora intanto beccati questo ok devo evitare sta gente il più possibile ma levati tu che sto occupando di qualcosa di un pelo più grosso ma come mi ha fatto a prendere che sono qua sotto ecco fatto randello non mi serve arrivo arrivo cos'è sta roba ah un tondino d'acciaio grazie si trasformando arrivo 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 resisti eh mi sa che è troppo tardi vero mi sa che è tardi ah hai resistito è ok to listen to them no no let them in grace è una di noi si si niente bis non a sto giro mi spiace zitti e morti ferma cadenza eh